Si è dimesso Artur Mas, il presidente del governo regionale catalano. A prendere il suo posto è Carles Puigdemont, sindaco della regione catalana di Girona, nome che mette tutti d'accordo nel movimento anti-Madrid. Mas rappresentava l'ostacolo maggiore da superare sulla strada dell'accordo degli indipendentisti con la sinistra radicale della CUP, candidatura d'unità popolare. Il passo indietro del leader secessionista era infatti obbligato affinché gli indipendentisti raggiungessero un'intesa per la formazione del governo catalano.